Su Righeddu, un'opportunità per i Cassi Integrati, è quello che ha sostenuto l'assessore regionale Andrea Prato nell'incontro di presentazione al Municipio per la manifestazione Poderi Aperti, che si svolgerà ad Alghero dal 31 maggio al 2 giugno. Studiare un progetto, aprire i privati e destinare i terreni alla produzione differenziata è l'obiettivo individuato dall'assessore regionale, condiviso dal sindaco Marco Tedde e dall'assessore allo sviluppo economico Gianfranco Langella. Un ritorno alla terra in tempi di crisi dell'industria e tassi record di disoccupazione giovanile in tutto il nord Sardegna.